Allora, questo film nasce un bel po' di anni fa, quando io ed Enrico facciamo una prima stesura per partecipare al concorso Solinas Experimenta, che all'epoca era la sua prima edizione. Questo progetto poi è rimasto nel cassetto per un po' di tempo, lo abbiamo riscritto varie volte, quindi diciamo che dall'idea iniziale della prima scintilla, poi nel corso del tempo delle riscritture si è anche arricchito di un'altra serie di idee, come naturale che sia. Noi siamo partiti all'inizio con l'idea di... non ci siamo posti, non abbiamo fatto uno studio di mercato per fare una cosa, infatti non siamo riusciti a fare il film all'epoca, abbiamo cercato di fare un film che ci sarebbe piaciuto vedere da spettatori e che era nelle nostre corde, insomma, da un punto di vista tematico, estetico. Per quanto mi riguarda, forse le scintille di partenza come ispirazione per rispondere alla domanda sono state sia cinematografiche, quindi collegandoci ad un filone cinematografico che tratta tematiche relative alla mente, un po' un cinema mentale in cui la narrazione è molto permeata dalla soggettività del protagonista, insomma, diciamo così. E anche delle suggestioni letterarie, in particolare citerei forse sicuramente Philip Dick, la fantascienza distopica di Dick, e poi anche io citerei Borges, che è un autore che amo molto, insomma, che in qualche modo, secondo me, è entrato a far parte così del progetto. Avendo visto il film, poi io non dico nulla, non voglio spoilerare, ma insomma, ci sono cose che... si sono accese delle lampadine mentre tu citavi questi autori. Allora, io preferisco che facciate le domande dalla sala, quindi, perfetto, ce n'è già una. Non so se... vai. Eh, microfono... Qualcuno li fa passare? No, Federico, grande, Fede! Grande, Federico! È la prima, eh, scusate, poi ce sto io, quindi va dei conseguenzi. Ci sei? Potete accendere? Lo facciamo doppiare, il nostro interlocutore. Adesso ho quasi paura della domanda. Esatto, c'è caricata di una spettativa incredibile. Ci sei, vai! Ora va? Ok. Allora, Carlo D'Acquisto, Cinecittà News. Volevo chiedere, dal momento in cui ci rendiamo conto che, diciamo, il protagonista confonde sogno e realtà, diciamo che è tutto possibile, noi, lo spettatore, sa che non tutto quello che vede è potenzialmente reale. Ci sono dei rischi, dal punto di vista autoriale, nell'affrontare una narrazione di questo tipo? Negli effetti drammaturgici e scenici che volete creare? E quali sono anche le potenzialità di una narrazione di questo tipo? Io poi lascio la parola a Enrico. Sicuramente ci sono dei rischi, diciamo che ci siamo presi consapevolmente. Abbiamo messo in conto che ad una prima visione, diciamo, il film possa spiazzare per certi versi. Cioè, la nostra speranza è che il film ad una prima visione sia comprensibile, diciamo, nella sua linea generale, che possa legittimamente rimanere allo spettatore qualche dubbio su, ma quella scena era realtà, era sogno, eccetera. Però è anche, non l'abbiamo visto come un limite, anzi è proprio, secondo me, un valore aggiunto di questo tipo di film. Insomma, dei rischi ce li siamo presi belli grossi, per esempio, fra tutti, spero che abbiate già tutti visto il film, e questa cosa naturalmente non deve uscire da questa stanza. Io vorrei essere pagato per non far uscire la cosa, dopo magari ci mettiamo d'accordo. No, il fatto che noi abbiamo messo nella sequenza di apertura proprio il personaggio di Stefano Corsi, invecchiato, era molto rischioso, abbiamo, poi dopo la parola trucca abbiamo visto che non ci sembrava riconoscibile, e abbiamo usato, però insomma sì, i nostri rischi ce li siamo presi. Eh sì, devo dire. Sì, dal punto di vista, diciamo, di mischiare quello che è il sogno, la realtà, giocare sulla percezione, diciamo, del protagonista, sia io che Alberto, pensavamo che potesse essere una sfida interessante, cioè proprio da un punto di vista drammaturgico. Cioè l'idea che il cinema comunque, quello che ti fa vedere, tendenzialmente, c'è, è reale. Poi si tratta di capire se è una realtà psichica, se esiste, se è una realtà fisica. Abbiamo pensato che potesse essere anche un modo interessante per raccontare come certe realtà mentali, certi ricordi ossessivi, siano sempre molto presenti e reali, anche quando non ci sono. Cioè noi continuiamo a rivivere, a livello emotivo, certe cose. E sono sempre presenti con noi, anche quando passa tanto tempo. Quindi diciamo che l'escamotage del genere, di questo genere o sottogenere di film, che lavora sulla percezione dello spettatore, sul ribaltamento della percezione, secondo noi ci permetteva proprio di indagare un tema preciso. e quindi abbiamo corso dei rischi, ma nella speranza che potessero servire per emozionare. Ecco, non sono fini a se stessi. C'è il desiderio di prendere all'accio allo spettatore, facendogli chiedere cosa sto vedendo, cosa è reale, cosa non è, ma al tempo stesso tirandolo dentro all'avventura emotiva del protagonista. Prego. Emanuele Bigi, odonna.it. Volevo chiedere al regista, hai parlato di riferimenti letterari, ecco, invece ci puoi dire riferimenti cinematografici, se ne hai avuti? Sì, no, beh, i riferimenti cinematografici sono tanti. Diciamo che io avevo una costellazione di film, un po' che mi hanno guidato, potrei citare tra i tanti L'uomo senza sonno con Christian Bale, potrei citare Apri gli occhi di Emena Barr, Existence di Cronenberg, Moon, sì, Moon, anche Spider sempre di Cronenberg, comunque anche in Spider c'è un protagonista che ha, diciamo, una mente un po' dissestata, che cerca di ricostruire il proprio passato, e anche naturalmente il cinema di Christopher Nolan, in particolare Memento, probabilmente il suo film che io amo di più, questa è un po' insomma la zona in cui ci siamo mossi con riferimenti. Altre domande? Nessun film italiano, tra i citati, cosa vuol dire fare un film di questo genere, sci-fi, thriller psicologico, ce ne sono pochi, qua possono rispondere anche i produttori, nella scena italiana, quindi una riflessione sulla scena italiana, sul genere di questo tipo, grazie. Sì, no, infatti come dicevo prima, noi non ci siamo posti troppe domande su questo, ci siamo tuffati in questa cosa, perché ci piaceva cimentarci con questo tipo di cinema, e sicuramente i precedenti italiani sono pochi, insomma, da questo punto di vista, e alcuni, fra l'altro Stefano, che è anche uno sceneggiatore, ovviamente, oltre che un produttore, ne ha scritte alcuni, il ragazzo è invisibile, insomma, quindi abbiamo formato una piccola, così, come dire, una piccola pattuglia di avanguardia per cercare di esplorare questi territori poco, ma lascerei la parola a loro che... Eccomi, io mi sono imbattuto in questa storia, insieme a Ines, non eravamo ancora una società, eravamo giurati del Solinas Experimenta, a me capitò di spingere molto questo progetto in quella fase là, che era una fase, diciamo, di un concorso, barra laboratorio, quindi grande merito al premio Solinas, che consente alcuni progetti di venire alla luce, senza la creatura di Anna Maria Granatello, sarebbe molto difficile, il panorama sarebbe più ristretto di storie. Io credo molto nella capacità del cinema di portarti altrove, spesso la nostra produzione si rassegna al perimetro di quello che è già stato fatto e non tenta di allargarlo con storie che osano qualcos'altro. È come se ci fosse una grande distanza tra quello che siamo come spettatori e quello che siamo come storyteller, come narratori, eccetera. Siamo molto più limitati nel secondo caso, abbiamo un ambiente più ristretto di opportunità. Mentre il nostro cinema è stato non solo il cinema dei grandi autori, ma anche un cinema di genere è capace di andare ben oltre i nostri confini, penso a Sergio Leone, penso a Dario Argento, eccetera. Dagli anni, fine 80 e poi abbiamo un po' rinunciato a quella vocazione lì e quindi è difficile ricostruire il patto col pubblico perché si è rotto a una consuetudine, no? E ogni film che cerca di farlo sembra un po' un sasso lanciato anche un po' estemporano. A volte sono troppi derivativi, a volte si fatica a trovare un'identità propria, un linguaggio italiano. Noi abbiamo cercato in questo film di seguire molto la scrittura perché la scrittura ti radica molto, cioè ti impedisce di diventare velleitario. Io avevo fatto un film, il mio primo film da sceneggiatore era La Doppia Ora, che era un film di regia di Capitano, che era un film che in qualche modo si aggirava in questo territorio qua. Andiamo a Venezia in concorso e ci furono anche lì delle obiezioni a che un film così fosse in concorso perché era un film molto mentale e io aggiungo alla lista dei film che ha fatto Alberto, anche Allucinazione perversa di Adrian Lyne, Eternal Sunshine of a Spotless Mind di Michel Gondry, ci sono tanti film che hanno raccontato la psiche dei personaggi. Io ho creduto molto in questo progetto, prima l'ha giurato il Solinas, poi quando abbiamo fondato la società con Ines siamo andati a ritrovarlo, perché ovviamente siccome c'è una poca consuetudine produttiva verso questo tipo di film in Italia, non aveva ancora trovato la luce questa storia. Io credevo molto nel potenziale di questa storia, ma lo credevo da lo spettatore che è in me, non tanto con una visione, diciamo, d'affari, ma perché penso che l'unico modo per fare affari in questo sistema sia fare quella cosa che ti piacerebbe vedere, no? E vale anche quando sei un autore, ma vale anche quando sei produttore, secondo me. E quindi credo che in realtà bisogna rialfabetizzare un rapporto col pubblico, che non si fida degli autori italiani spesso come possibili confezionatori di storie di genere. Più esempi riusciremo a mettere in fila, più ricostruiremo un rapporto e sarà più possibile esplorare altri territori di racconto. Questo è quello che noi con la nostra società cerchiamo di fare, sicuramente quello che fa Matteo Rovere, Andrea Paris con Ascette, con Groenlandi, eccetera. Sono tentativi che vogliono consolidare un nuovo patto col pubblico, sicuramente. I Persogna, speriamo ci riesca, che nessuno si metta a pensare a un film italiano che fa questa cosa, ma a quel film fa quella cosa. Fa quella cosa. Ines, vuole aggiungere qualcosa? Eccomi. Sì, devo dire che questo percorso ovviamente si è riflettuto anche in un lungo percorso di ricerca di finanziamenti, di ricerca di mettere questo, di dare vita a questo progetto, perché è chiaro che oltre tutte le cose che appunto hanno parlato i miei colleghi, c'è anche il fatto che è un'opera prima. È un'opera prima, non è mai semplice, figuriamoci quando si tratta di un progetto così. No, non siamo noi. Ah no, ok, in particolare. Scusate, sono riuscita ad accenderlo, ma mi mancava il coperturo. Quindi, insomma, il percorso è iniziato appunto col Ministero, che per fortuna ha finanziato questo film, ovviamente insieme ad Ascent e Grolandia, che sono i nostri partner, questo è il secondo film che abbiamo fatto insieme, e poi abbiamo fatto, insomma, c'era una partecipazione di Amazon e anche di Rai Cinema, che hanno, insomma, in qualche modo creduto anche loro in prime persone quanto noi in questo progetto. Benissimo. Io a questo punto da autorità passo la parola agli attrici. Inizierei con Caterina, se possibile. La chiamo così perché l'ho coinvolta tanti anni fa in una manifestazione vicino a Roma. Spero che mi abbia perdonato. Caterina Sciulla, prego. Come ti sei preparata ad affrontare il ruolo di un personaggio estremamente ambiguo, trattando un film di tematiche mentali, la materia è molto liquida, quindi non credo sia molto semplice. Forse ti risponderei come mi sono preparata alla conferenza, perché parlavamo prima con tutta la nostra squadra e Astrid. Essendo un film molto ambiguo su tanti lati, sia come storia, come trama e anche come personaggi, credo che sia la prima volta che mi capita di non saper spiegare esattamente com'è il ruolo, com'è questa storia. E vorrei anche precisare che nonostante sia un film di genere come abbiamo detto prima, c'è una cosa che secondo me funziona alla base di questa storia che ha fatto anche credere tutta la squadra di produzione, compreso Rai Cinema, Amazon e tutte le produzioni che ne fanno parte, che semplicemente è una storia d'amore. È una storia d'amore che fa funzionare secondo me tutto il filo di questo film. Ed è una storia d'amore tra due personaggi soli, disperati in qualche modo. E in questo vorrei ringraziare anche Enrico e Alberto con il supporto di Stefano, che sono stati secondo me molto bravi proprio nella scrittura alla quale non siamo secondo me più abituati. Cioè un film che duri cento minuti e che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine. Nonostante tratti delle tematiche racconti abbastanza ambigue e comunque in qualche modo chiaro. Porto un messaggio chiaro e lo spettatore secondo me alla fine esce con delle idee chiare se le sia piaciuto o no. E questo secondo me come diceva Stefano è molto importante da portare avanti perché dovremmo smettere di dire in Italia ah l'abbiamo fatto in Italia sì e l'abbiamo sempre fatto come ha detto Stefano e dovremmo continuare a farlo e questo grazie anche a chi ci crede alle produzioni che ci credono e le distribuzioni quindi è più un ringraziamento il mio che è un racconto del personaggio che poi vedrete nel film. Certo. Astrid Meloni Ciao. Anche a te un po' la stessa domanda in realtà il tuo ruolo è un ruolo molto significativo io non voglio anticipare nulla volevo chiedere appunto la tua impressione nell'affrontare un ruolo così complicato. Forse inizierei con la stessa risposta in qualche modo nel senso che anche io come Caterina ho avuto ho la difficoltà insomma un po' in qualche modo a spiegarlo questo personaggio qual è il suo percorso la cosa che per me è molto chiara è che questo personaggio svolge una funzione cioè ha la funzione di accompagnare lo spettatore nel disvelamento di un mistero quindi a snocciolare questo mistero che poi si svela alla fine e grazie al quale poi tu riesci a capire un po' tutta la storia insomma qual è la questione in atto. Quello che io ho cercato di fare è di come dire muovermi in un crinale che fosse tra l'empatia e la distanza che è un po' quello che molto spesso nelle professioni di aiuto si fa io sono lavorata in psicologia non ho fatto la psicologa perché proprio non riuscivo a mettere questa distanza guarda caso è capitato un ruolo adatto ok la devo affrontare questa cosa e quindi ho cercato appunto di muovermi in questa linea sottile come se il corpo cercasse di raccontare spero di esserci riuscita poi il corpo cercasse di raccontare la vicinanza e la comprensione e l'empatia appunto e invece con la voce e con le domande con questo essere sempre molto precisa molto determinata nel portare lui in certi a seguire un certo percorso appunto la presenza vocale fosse cercasse invece di esprimere il contrario in qualche modo era molto importante almeno io ho notato anche proprio l'emissione della voce anche la postura sì c'era proprio un significato molto molto preciso era contenere un po' in qualche modo un contrasto e di questo appunto devo ringraziare loro che l'hanno scritto e che mi hanno Alberto che mi ha diciamo guidata in questo percorso che per me non è stato personalmente facile io sono una persona molto solare molto a tremila quindi cercare di contenermi è sempre un po' complicato e quindi grazie allora noi abbiamo un paio di minuti se c'è un'ultima domanda brevissima non ce n'è allora io prego Stefano diciamo è stata una decisione collegiale con i produttori abbiamo pensato al suo nome appena abbiamo pensato a lui insomma io ho pensato che potesse essere l'attore giusto perché non scopriamo certo noi che ha una grande versatilità lo ha dimostrato in diverse occasioni insomma io ero rimasto molto colpito per esempio dal ruolo che ha in veloce come il vento in cui abbiamo visto una corsi trasfigurata quindi considerando che lui per questo film anche doveva un po' reinventarsi sia come tipo di personaggio sia come genere nel quale lo calavamo ed essendo un attore insomma di grande di grande riconosciuto talento è stato è stato proprio l'ultimo tassello insomma per portare in porto il progetto diciamo anzi lo ringrazio mi dispiace che vi porto i suoi saluti purtroppo sta girando in questo momento quindi non fortuna sua non purtroppo esatto allora grazie grazie prego secondo me Stefano è uno di quegli attori che ha quella rara dote di portare dalla sua parte l'empatia del pubblico appena è sullo schermo qualunque cosa tu giudichi di lui qualunque cosa pensi del personaggio in realtà gli vuoi già bene è un dato animale istintivo non lo so ce l'hanno pochissimi attori è una specie di fortuna di cui sono anche inconsapevoli e parlando di attori voglio ringraziare anche Francesco Navantia e Sandro Gazzale che sono stati bravissimi e questo è un cast che ha dato vita a un mondo no? a un mondo che è il mondo di questi due signori qui alla mia sinistra la cosa importante di Stefano è che serviva un attore capace di guidare il pubblico questo personaggio passa attraverso tante incarnazioni e tanti stati d'animo certe volte è da una parte della barricata certe volte dall'altra certe volte è angosciato è vittima dall'altra è salvatore e in questo disorientamento voluto e cercato dai nostri autori bisognava che ci fosse un sentimento forte che ancorasse lo spettatore nei vari passaggi che non si perdesse Stefano è uno a cui accordi la tua fiducia e questo era importante per il film perché il film non doveva rimanere chiuso rispetto al rapporto col pubblico il gioco mentale doveva avere anche una controparte emotiva e lui ci è sembrato una delle poche scommesse in grado di garantircela ecco sicuramente ci è riuscito perché quindi da noi produttori grande nota di apprezzamento per il lavoro di tutti gli attori e per il lavoro di Alberto che li ha gestiti molto bene voglio salutare anche Paolo Pierobon che è un altro grande attore che si è prestato a fare una parte molto importante nel film e non spero di non dimenticarmi nessuno però sono stati tutti veramente molto bravi si mi unisco anch'io a questi ringraziamenti a tutti gli attori che sono stati meravigliosi anche a tutti Capireparto perché questo è scontato per un film è stata veramente un'opera collettiva in cui tutti Capireparto tutti quanti hanno dato veramente un contributo fondamentale quindi ringrazio anch'io tutti quanti grazie grazie a tutti grazie ai presenti allora ricordo il film esce in sala il 29 di novembre Ipersogna buonasera grazie cioè buonasera ossia due a mezzogiorno no 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 no